Ehi, sono Passox e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Come state vedendo qui sullo schermo, Fortnite ha anticipato il teaser di un'ora, perché di solito entro le 17, ma per fortuna, per mia fortuna, il nuovo teaser è stato mostrato pochi minuti fa, con scritto trasmissione intercettata con la data 02-20-2020, ovvero il 20 febbraio, anche se Epic ha confermato che il nuovo pass uscirà il 21 febbraio, cioè di venerdì. Ma mai dire mai, avremo tutte skin con uno stile dorato? Soprattutto c'è la teoria più discussa che è quella di un nuovo materiale tutto d'oro. Un materiale quasi indistruttibile e fortunatamente limitato? Non si sa ancora. Ma la cosa molto probabile è che riceveremo l'ombrello dorato per la prima vittoria nella season numero 2. Perché questo ombrello è nei file di gioco sin dal capitolo 1. Molti leakers all'interno di Twitter possono darvi conferma. Come state vedendo ci sono altre svariate immagini, anche il sito stesso di Fortnite si è controllato nel sito, è tutto cambiato, è tutto con questa mano, stile il buco nero. E qui ho bisogno proprio di voi. In giro, per l'Italia, avete notato qualcosa di strano? Avete notato qualche poster molto simile a questo? Questi sono tutti i luoghi dove sono presenti questi glitch con le mani all'interno degli schermi o dei poster con il numero telefonico. Al momento il numero telefonico italiano non è stato ancora trovato, oppure non esiste. Ma non si sa mai che uno di voi l'ha trovato. Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la vostra idea delle nuove skin. Molto probabile che forse ci sarà lo schietro come protagonista di questa stagione, lo schietro d'oro, oppure qualcun altro. Chi lo sa? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo molto presto con un video molto molto divertente, che vi piacerà un casino. Ricordate di sopportare questo creatore e noi come al solito ci vediamo a un dolcissimo e carnissimo.